Amici carissimi, estimatori di Mazzara Forever, mi corre l'obbligo di fare una piccola precisazione per quanto riguarda il materiale che voi amorevolmente, cortesemente, periodicamente mi inviate. Io posso solo pubblicare tutto ciò che concerne la città, i cittadini, gli usi, i costumi, i documenti e così via. Non posso certamente, per ovvi motivi, inserire materiale di altra natura. Intaserebbe irremediabilmente lo spazio a me concesso dal server. Per cui vi prego, evitate di inviare pubblicità, notizie che non riguardano il tema in discussione, perché altrimenti sareste cestinate e a me dispiace molto. Un cordiale saluto.